eccoci qua eccoci qua signori nel pacchettamento più grande d'Italia del mondo dell'evento centurioni ragazzi non ci sono più pacchetti di questi 35 pacchetti sull'account micro-entering ciao 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 oggi guardate qui 82 più 83 più 84 più 82 più misti prime misti piccoli oggi 85 più 85 più ci sono pure i due hero ragazzi oggi si smatete salvo è tutto compito tuo fai tutti fai tutti i tuoi tutti i tuoi eh ma che ci salvo ti prego però ti prego ti scongiuro io in ogni pacchetto chiudo gli occhi ok salvo se fa cagare dimmi subito apri ok iniziamo dai pacchetti a vero più cari questi qui guarda li hanno mangiato ah ok ora non è venuto uscito ok ragazzi si sta caricando ho avuto eccoci qui signori eccoci vai pacchetto oro no ragazzi comunque c'è questi qui limitando pacchetti oro ma no ragazzi play oh madre teresa madre teresa pacchetto oro premium già questo dai lo voglio un po' migliorare un po' inglese att porca miseria mamma mia no ragazzi la vedo grigia nera in tutti i modi mi la crediti proprio mi la crediti porca miseria allora noi abbiamo i pacchetti più sclausi poi passeremo che ne so piano piano gli 80 sì sì pacchetto oro per il maxi attenzione italia a esse oh chiesa no perfetto no no ragazzi facciamo i seri per favore madonna madonna pure non è scambiabile oh madre allora il lorenzo iniziale dai già voglio piangere ragazzi dobbiamo sbaggarci con questo due giocatori onorari no ragazzi già sto per piangere ci sbagliamo ragazzi ci sbagliamo ma chi cazzo è Tenerife ma perché papas no ragazzi no ragazzi no ragazzi ragazzi tutti ci sono anche il pacchetto ragazzi vi dico solo l'ora eh vi dico solo l'ora sono le lu cioè le mezzanotte 50 del giorno santo che cazzo è questo che cazzo è questo che cazzo è questo madonna madonna no ragazzi calma calma il giorno santo sta arrivando mic devi dai di calma io mi sto riscaldando si si vedi misti prime tante misti prime si conosciamo tutti vedi stand by ok prima 84 prima ma no no vabbè chissà va prima 84 vedi ci stiamo riscaldando la vita è chiuso freddo comunque si 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 sei stata appena fuori ti devi riscaldare le mani oh è quella tizia Renarder ah si e volevi proprio lei vabbè questa 88 stiamo un po' scendendo però calmo stiamo io che pensavo che era l'88 misti prime piccoli ragazzi francese anche milan pia il calore madonna ragazzi a merda però finché ci troppi i francesi non ci lamentiamo dai i francesi può cazzare cosa vediamo adesso se ci sono scaltro bacchetto giocatori all opening max vai ti diamo un ottimo attenzione francese cpc ed è proprio qui chi è questo ma va a far culo dai madonna che era almeno la che io ora così te la vendevi quella lì madonna madonna calma no la vedo devi darmi tempo allora vedi ora i piccoli vediamo madonna madonna ragazzi ci apriamo un altro po' di questi qua pacchetto rocchio maxi nicchè ci mani polca miseria mitoma madonna madonna ragazzi aspetta 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 nicchè no ragazzi iniziamo con il primo 80 più non guardare salvo qua non guardo salvo 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 allora fra ti devo dire salvo 80 più già iniziamo con un bello rovelo ma guardo sì ma vabbè più 80 più iniziale siamo che 100 più 4 vincente perfetto ragazzi proprio quello che volevo vai 80 più vai non guarda provo per non vederlo il suo preferito bronzo madonna salvo madonna salvo madonna salvo ciò qua un macete andiamo con un altro 80 più vai non guarda salvo non ho detto sbc ho detto giocatori utilizzabili chi è Murphy buonissimo ma chi se ne frega di Murphy vai oh no salvo qui si inizia veramente sul tosto eh salvo salvo ora premio Max ci siamo di entrare di lui dobbiamo togliere la sfiga con questo fra dobbiamo toglierla con lui ma cos'è ma chi è ma mamma c'è un giugno ma mamma lei ha prego a noi anche questi sono riscaldamenti lo sai anche te salvo io spero che sia veramente così ragazzi è il giorno dei santi vedrete la mia tomba salvo io spero che sia veramente così pacchetto aurorano iniziamo vai chiudo salvo subito mi puoi dire tipo 85 più eh perché qui ci siamo un po' svegliati puoi guardare 83 madonna madonna salvo te lo giuro che davvero ce l'ho il macete no ragazzi bevo un po' d'acqua santa perché ragazzi dovevo nemmeno per stirare a 15 pacchetti ci fermiamo un'altra abbiamo altri tre pacchetti ci fermiamo un secondo quindi due giocatori 80 vai non guardo tanto sarà la merda eh sì attenzione un 83 attenzione madre teresa salvo madre teresa non madre ma madre teresa no salvo salvo mi sto affidando di te non ti preoccupare questi sono le scaldamenti aiuto allora altro pacchetto giocatore orale dai troppi troppacelo troppacelo è troppo lunghi è troppo lunghi chi è chi è chi è dai 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 calma calma questi ci sono pacchetti scaldando anche te io voglio piangere non dobbiamo tanto ragazzi io voglio piangere di gaso ma dai allora ho portato ancora più sfiga attenzione questo è buono diciamo va al serio ma dai ma basta salvo ma che buono questo calcciolotti a me servono allenatori francesi poi che accallaccero ma sono quali ma la si è marsella salvo in questo momento non ci devi pensare allora ragazzi se un attimo un bagato si fa usciamo in intervallo in 2 euro fai tu vai fai tanto sei tu che decidi salvo salvo no salvo 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 no salvo no salvo ok respira alla mi dico respira profondo io voglio piangere dai dai è già una merda salvo è già una merda già lo so dai 82 no ragazzi ne apro uno io dai capito vai 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 c'è salvo c'è c'è te lo sto trovando io eh io io salvo li devo aprire io se no qui vabbè chi se ne frega vai salvo fa il set salvo salvo c'è ragazzi se me ne trovo un altro schifoso parto io dai ho già capito quindi salvo dipende tutto da te guarda sempre se è tipo dopo walk out con le robe lì guarda che cosa c'ho oggi no salvo salvo basta 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 sshh stai calmo no 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 ok ragazzi apro io 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 sono senza parole salvò io sono senza parole non tu io ah ho capito calma c'è ancora a voto il tuo pacco più nervosi da mezzo vabbè l'altro è però meglio il peso mi parliamo sicari salvò 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 facciamo un pacchetto a testa tu hai perso di questo ne sono rimasti 10 io abbia quello lì più schifoso ok puoi guardare eh puoi guardare ma chi è christian cell vai ora tu io ho detto uno dei più schifosi partiamo quello che ti senti il più schifoso ce l'ho tendo vai vai vediamo dai c'è una merda fai c'è una merda 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 vai chiudo salvo queste OP eh salvo queste OP eh davvero salvo se mi trovi anche uno del leader uno che odio te non giuro che ti spezzo le mani ti spezzo le mani e volevi perché ridi cos'hai? è rider no vabbè no no salvò no vabbè no vabbè no vabbè no salvò no 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 aspetta ecco scambiato si 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 ma dove ragazzi mi ha cambiato la vita grazie no salvò salvo 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 vai facci sognare con uno un giocatore 85 più scambiare signori è una merda no vabbè ragazzi no vabbè ragazzi ma cosa sta vedendo ma vabbè io no 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 lo sai che anch'io ci ho trovato show quella dei delziti quella femmina brutta salvo non mi interessa nulla siamo nel mio account ti apro vai 84 più vai guarda è un segno entro e esco dallo shop si è un segno mi raccino fra bacio sul pad bacio sul pad vai vabbè è un workout si si è un workout e poi mi ritrovo un 84 no vabbè salvò no no ho visto in grado il tessino destro ho detto vabbè è Arnold modificato ragazzi ragazzi e finisce qui vai una merda perfetto ragazzi oh aspetta è Kimmick è Kimmick oh che oh eh non ci hai guardato salvò vabbè però salvò eh buoni però oh oh eh sì per carità eh davvero uno che mi indica così dai però hai trovato sempre una sua aspetta mick ti ha il doppio 85 più vai non guardare non guardo dimmi salvo dimmi ah sì quella tizia di merda salvo ti prego salvo ti prego uno due eh sì tre quattro cinque avapina moccala esports eh sì salvo guarda sempre quella roba doppio workout doppio workout ok è il doppio workout ok ma sono buoni o sono buoni per l'SBC buoni per l'SBC madonna 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 ragazzi io voglio piacere questo vai mick facci sognare attenzione appena quanto ragazzi guarda 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 sempre se hai doppio workout ok salvo salvo nigeria tt oh e osimeno la credevo anch'io madonna madonna osimeno nigeria 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 con il potere dena aspetta non apriamo ancora l'87 apriamoci un'iro ok no apri tu il primo ok io voglio piacere io voglio piacere io voglio piacere tutta la mia forza su quest'iro mani al cielo no ragazzi è una merda già è una merda se dice così è una merda vai ho aperto ho aperto vai ragazzi sono proprio curioso ti ritiverà davvero non sarà manco un workout quanto ci riesco a mettere dai dici un po' salsuolo watch ah vabbacculo te watch dai dai scott sempre scott ogni 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 pacchetto scott vincere l'abbiamo insieme 3 2 1 per il potere dell'amicizia per il potere dell'amicizia vai allora dimmi se c'è doppio walk up se non c'è neanche dopo walk up salvo ti devo sparare in fronte aspetta ok doppio workout c'è doppio workout c'è si ma sono buoni per l'SPC o guardarsi in fronte? io 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 grazie al cielo che non state vedendo i miei nuovi denti sc Butter io vedrei non vedrei non cercando non guardare non guardare eccola qui io non ce la faccio più io non ce la faccio più non ce la faccio più tu sarà una mierda buy mi vedo il mb quello inglese vine tu non vedrai Sarà una merda Dai, dirò Hai tornato un 87 Un 87 inglese Dai, chi sarà mai Ascolterai nessuno Dai, chissà chi è Chi è salvo? Dai, dai Tanto, tanto Ragazzi Il video può terminare qui Grazie per chi è rimasto Ragazzi Ci sentiamo in attimo